Bene amici di Solo Dettagli, come vedete dalle due signore sul nostro cofano cavia, oggi in questo video continuiamo a parlare di lucidatrici. Il tema di questo video è 4 tipi di lucidatrici. Perché? Perché ho voluto scegliere le 4 tipologie principali di lucidatrici. Questo cosa vuol dire? Che probabilmente ce ne sono varie, ce ne sono di più di queste. Però ho voluto semplificare al massimo basandoci anche sulle terminologie, sui termini che sentiremo nel nostro ambiente e nei nostri corsi. Esaminiamo insieme le caratteristiche di queste 4 tipologie principali di lucidatrici. Il primo tipo di cui vorrei parlarvi è la lucidatrice rotativa, che se vogliamo è il tipo più antico, più originale di lucidatrice. Non è altro che uno strumento con un corpo, un motore o una serie di ingranaggi che trasformano ovviamente la potenza elettrica in un movimento unicamente rotatorio. Facilmente intuibile, questa lucidatrice una volta accesa non fa altro che far girare il platorello su se stesso. Ricordiamoci quindi questo termine. Lucidatrice rotativa consente un moto unicamente rotatorio. Gira su se stesso e basta. Questo porta dei vantaggi e degli svantaggi. Li esamineremo in uno dei prossimi video. Ma andiamo avanti. Un secondo tipo di lucidatrice, che probabilmente è quello che nel nostro tempo è il più utilizzato, è quello roto-orbitale. Ho voluto dividere questa parola in due con un trattino, non sempre la vedrete così. Ma ben rappresenta il fatto che questa lucidatrice è caratterizzata da due tipi di movimento. Il movimento rotatorio, quindi simile a quello che abbiamo visto nella lucidatrice rotativa, associata ad un movimento orbitale, quindi mentre il rotatorio gira su se stesso, l'orbita, descrive un movimento di oscillazione del platorello. Queste lucidatrici, poi ne approfondiremo in uno dei prossimi video, il funzionamento. Vengono anche chiamate DAS o DAP, che sono l'acronimo di Dual Action Sender o Polisher, ovvero lucidatrici a doppia azione, ed è facile capire perché, perché ci si riferisce al doppio tipo di movimento, ma anche Random Orbital Sender o Polisher. Che cosa vuol dire? Che il movimento è Random, ovvero il tampone e il platorello non passano mai nello stesso punto. Perché? Perché mentre il movimento orbitale è un movimento di tipo meccanico, il movimento rotativo è un movimento indotto. Quindi uno è certo, la macchina è caratterizzata da un numero preciso di orbite, quindi non andiamo più in giri al minuto come per le rotative. Come dicevamo nel precedente video, mille giri al minuto vuol dire che nella lucidatrice rotativa, se noi impostiamo mille giri al minuto, ogni minuto avvengono mille giri. Nella lucidatrice roto-orbitali non abbiamo gli RPM, quindi i giri al minuto, ma le orbite per minuto, perché appunto il meccanismo porta a creare delle orbite. Una conseguenza è anche la rotazione. Quindi mentre abbiamo un numero di orbite ben definito nella lucidatrice roto-orbitale, in realtà il movimento rotatorio è casuale. Dato che questi due movimenti non sono precisi, non sono sincronizzati tra di loro, il movimento è random. Non sappiamo mai dove si trova il platorello in un determinato istante, ecco perché in inglese li chiamano giustamente random, random. Passiamo alla lucidatrice successiva, la roto-eccentrica. Mentre prima abbiamo visto che la lucidatrice aveva un movimento orbitale e rotatorio, qui abbiamo un movimento eccentrico, che fondamentalmente è la stessa cosa. Ma mentre questo movimento e questo movimento sono indotti da degli ingranaggi, la rotazione nel caso della roto-eccentrica è obbligata. Quindi, detto in parole povere, se noi ci mettiamo storti o blocchiamo fortemente il nostro tampone durante il movimento di una lucidatrice roto-orbitale, riusciremo a fermare la rotazione perché non è un movimento obbligato da ingranaggi, è un movimento indotto. Nella lucidatrice roto-eccentrico, invece, la rotazione è un movimento assolutamente legato all'eccentrico. Quindi, ad un determinato numero di orbite, ad esempio ogni 400 orbite, questa lucidatrice mi farà, ad esempio, 10 rotazioni. E questo è un movimento di proporzione, non ci si muove da lì. Qual è, appunto, quindi, la differenza? Chiaramente la lucidatrice roto-eccentrica ha dei vantaggi. Se io mi metto leggermente storto, la lucidatrice roto-eccentrica continuerà a ruotare, continuerà a correggere, la lucidatrice roto-orbitale, invece, si fermerà. Questo che cosa vuol dire? Che questa è superiore? Assolutamente no. Sono caratteristiche diverse. Infatti, questo è frutto di un'accurata progettazione e il fatto che la rotazione si blocca è un qualcosa di voluto in termini di sicurezza. Quindi, se io mi metto storto, se l'operatore non è molto preciso, non ha un'adeguata preparazione tecnica, non farà danni, ma ovviamente non riuscirà a correggere con le prestazioni che invece gli permetterebbe la macchina. Quindi vedremo poi quali sono le varie differenze tra queste. Vi posso dire che questo, anche questo tipo di lucidatrice, anche se sulla carta è vincente, in realtà è quello che io considero un toro scatenato. Quindi è quella che probabilmente è la macchina più fisica di tutte, richiede notevole concentrazione, notevole forza fisica per tenere il movimento della lucidatrice attaccata alla superficie da lucidare perché va più o meno dove gli pare e governarla è tecnicamente più complesso delle altre due. Andiamo nell'ultima categoria, quella che sentirete di meno e capirete subito perché, la lucidatrice orbitale, che tecnicamente non si sa nemmeno se esiste perché ha un movimento orbitale, di solito è sempre associato a un movimento rotatorio, ma con l'orbitale ci riferiamo a quelle macchine che hanno una rotazione talmente lenta, talmente poco forzata, che il movimento rotatorio è assolutamente trascurabile. E ci riferiamo con le orbitali alle macchine che troviamo nei supermercati, le macchine con le maniglie, con grandi platorelli che non fanno altro, in poche parole, che oscillare sulla superficie. Sono macchine poco utili per la correzione, quindi l'eliminazione dei difetti, potrebbero essere utilizzabili nel caso in cui vogliamo essere più rapidi nella stesura di una cera, di un sigillante sulla vettura, ma chiaramente non sono assolutamente prestazionali per l'eliminazione dei graffi, come invece può essere nel caso di una rotativa. Queste sono insomma le quattro caratteristiche, le quattro tipi fondamentali di lucitatrici, ne parleremo nei prossimi video. Se questo video vi è piaciuto, cliccate mi piace. Se avete altre proposte, altre domande, non esitate a scriverle nei commenti o scriverci nei nostri canali, nella nostra mail, info-dettagli.it e arrivederci al prossimo video.